Ma nonostante l'importanza delle riforme strutturali per la convergenza economica e nonostante la politica monetaria, la nostra Unione rimane fragile, perché le riforme rimangono affidate ai singoli ambiti nazionali. Non c'è modo di garantire oggi che i Paesi prendano le misure necessarie per farne dei membri all'altezza dell'Unione monetaria. Secondo me questo è una cosa a cui occorre guardare per pensare a un cambiamento. L'Unione monetaria genera una forte integrazione tra i Paesi membri e per questo motivo ha anche alti gradi di vulnerabilità reciproca. Per questo motivo abbiamo sempre applicato il principio secondo il quale se le politiche di un Paese hanno effetti di rilievo sui partner, esse devono essere governate da regole o istituzioni comuni. Le regole fiscali, per esempio, discendono da questo. Già che il default di uno Stato causerebbe danni a tutti gli altri. Credo che questo sia chiaro oggi e ritengo che lo stesso principio debba applicarsi alle riforme strutturali, in quanto un basso potenziale di crescita genera squilibri macroeconomici nei Paesi. La vulnerabilità che ne deriva si riverbera sugli altri Paesi.